A meno di 48 ore dall'arrivo del ministro Piantedosi a Bari, una nuova spaccata si è verificata ai danni di un esercizio commerciale. Si tratta della profumeria Douglas in Corso Cavour. Il presunto responsabile è poi cugito con l'incasso diretto verso Piazza Umberto, dove però è stato raggiunto dagli agenti di polizia. Non è la prima spaccata che si verifica in Corso Cavour. Basti pensare che a pochi passi dalla profumeria Douglas il negozio GameStop è stato per due volte oggetto di spaccate. È anche di questo che si parlerà nell'incontro con il ministro Piantedosi che si terrà venerdì in prefettura.